Si terranno martedì 10 ottobre alle 10 nella Basilica di San Vittorio a Missaglia i funerali di Luciano Beretta. Il 56enne è stato vittimo a giovedì scorso di un incidente nell'azienda nella quale lavorava da 40 anni, la nuova Tex di Oggiono. Ricoverato in condizioni gravissime, Beretta ha espirato nella serata di sabato. Appassionato pescatore ha lasciato nel dolore la moglie Grazia e la figlia Laura insieme a tutti i parenti e la comunità di Missaglia, dove era conosciuto e stimato. Un uomo generoso, solare, sempre aperto al dialogo, come ha ricordato il sindaco di Missaglia Paolo Redaelli, sottolineando anche il suo impegno a fianco dell'associazione Il Girasole in favore dei ragazzi più svantaggiati. Iscritto Avis e Aido, come gesto di generosità estrema, Beretta ha donato i suoi organi. Commosso il ricordo anche dei colleghi di lavoro che hanno salutato Luciano Domenica nel piazzale della Nova Tex e lunedì alle 21 con un momento di preghiera. Il silenzio in questi casi è più importante dalle parole al commento dell'azienda La Comunità ha perso Luciano, uno di noi. La scomparsa di Beretta è giunta nell'imminenza della 73esima giornata nazionale in memoria delle vittime del lavoro celebrata quest'anno domenica proprio a Giono.